Torino, Madonna del Pilone, 22 aprile 1911 Ai miei editori A voi che vi siete arricchite con la mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia in una continua semi miseria o d'anche più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che io vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la penna, meglio salvevi. Grazie Grazie Grazie